Ci troviamo al TechnoGym Village, quartier generale dell'azienda ma anche Wellness Campus, riconosciuto e premiato nel mondo. Qui nascono i celebri prodotti TechnoGym e il wellness diventa stile di vita per i dipendenti, clienti e ospiti. A Nordius Quarna è stata chiesta una soluzione innovativa e sostenibile per la gestione del verde qui al Village. Dare il nostro contributo alla visione di TechnoGym ci rende assolutamente orgogliosi. Quando è iniziato il progetto TechnoGym, sin da subito ci è apparsa una sfida importante. L'azienda dispone di una superficie di oltre 80.000 metri quadri, suddivisa su diversi livelli, con pendenze considerevoli. Ciò ci ha subito fatto capire che si trattava di un progetto dove si richiedeva l'utilizzo di diverse tipologie di macchine, sia robot AVD con quattro ruoto motrici per la gestione delle dune, sia di macchine per superficie estese e per zone più articolate con cespugli e passaggi stretti. L'azienda non chiedeva solo prodotti capaci di tagliare l'erba, ma era orientata a scegliere attrezzature sostenibili, ecologiche e silenziose che non disturbassero il lavoro dei propri dipendenti e che fossero dal punto di vista della manutenzione a basso impatto. La tecnologia Squarna si è rivelata fin da subito all'altezza e così la flotta di aereoboo negli anni si è implementata sempre più, fino ad arrivare ad oggi ad un totale di 25 macchine installate. Si tratta di modelli diversi, alcuni utilizzano la classica installazione con cavo perimetrale, altri utilizzano la tecnologia EPPOS con navigazione satellitare RTK con confini virtuali. Ciò che ha sempre contraddistinto questo progetto è stata la stretta collaborazione con il rivenditore autorizzato Squarna di zona, Skaini Sassa, che fin da subito ha intuito le potenzialità interpretando al meglio le specifiche necessità dell'azienda, fornendo un'assistenza qualificata, puntuale e di alto livello. Con i nostri robot venduti in tutto il mondo abbiamo dato vita nel lontano 1995 a nuove possibilità, a nuovi modi di vivere il giardino, come qui in Technogym, dove i robot agli a erba diventano parte del modo di vivere il verde aziendale. Come Technogym per il wellness, anche Squarna negli anni 90 anticipava il futuro, creando i primi rivoluzionari robot agli a erba. Questo luogo è una fucina di innovazione, di sostenibilità e luogo di wellness per i dipendenti. Ci piace raccontare questa realtà. La tecnologia e l'innovazione mirano a condurre le persone a vivere bene, a vivere meglio e nel caso specifico dei robot, ad avere più tempo libero da trascorrere, ad esempio, svolgendo attività sportiva, prendendosi cura del proprio benessere. Per noi, sostenibilità significa progettare soluzioni che preservano le risorse, riducono le emissioni, fornendo prodotti duraturi e servizi che incoraggiano la biodiversità. Qui, in termini di sostenibilità e biodiversità, l'impegno è notevole. I materiali impiegati, l'area be-friendly e la cura del tappeto orboso sono un esempio concreto di convivenza tra necessità di gestione e cura dell'ambiente. La differenza la fa sempre chi ha tuoi scelte sostenibili, come ci insegna qui Tecnogym, e che il cambiamento è una scelta.